200 persone riunite in un parco all'aperto per commemorare un connazionale morto in Camerun a febbraio. La cerimonia funebre, organizzata dalla comunità camerunense, rischia di trasformarsi nell'ennesimo focolaio di Covid. 8 persone sono infatti risultate positive, per tutti è stato disposto l'isolamento e sono già stati eseguiti i tamponi ai loro contatti più stretti. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Eugania vuole però identificare ed eseguire i tamponi su tutti e 200 i partecipanti al funerale che si è svolto lo scorso 4 luglio in un'area limitata dell'ampio parco pubblico Fenice in via Lungargin e Rovetta a Padova. L'Ulss 6 Eugania ha inoltrato la comunicazione al prefetto e al presidente della conferenza dei sindaci allo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di partecipanti affinché si palesino per sottoporsi al tampone. Anche la comunità camerunense è stata invitata a collaborare fornendo contatti e divulgando l'informazione tra amici e conoscenti. Al momento circa una quarantina di partecipanti sono stati rintracciati. Le persone che hanno preso parte alla commemorazione sono invitate a telefonare al numero verde 800 032 973 dell'Ulss 6 Eugania o scrivere a emergenza covid19 chiocciola a ulss6.veneto.it per richiedere il tampone che sarà eseguito presso una delle sedi distrettuali. I rischi di contagio sussistono, precisa l'azienda sanitaria, solo per i contatti stretti della comunità camerunense e non per eventuali contatti occasionali.